Sono diventata un po' prigioniera della mia casa perché con tutti questi lavori che ci sono qua da maggio è difficilissimo uscire da casa. Ora la situazione è peggiorata perché hanno chiuso pure il cancello del mio palazzo, quindi devo fare un giro ancora più grande. Perché non ci sono scivoli, ci sono tante buche marciapiedi, le macchie posseggiate sempre un poco in maniera non molto civile e quindi i problemi sono aumentati di parecchio. Ho bisogno sempre di molto aiuto, sia di mia sorella che di mia madre che ha 80 anni e quindi cerco di non disturbarla troppo perché i problemi li ha pure lei. E quindi sono molto limitata nei movimenti, ma questo è normale, come lo sono io, ci sono anche tantissime persone qua anziane che prima uscivano e ora da casa praticamente non escono così più perché è diventato proprio un grosso problema. Anche perché è un partiere mobile, non abbiamo nessuna certezza, ogni giorno c'è una novità, un giorno si buscina un posto, un giorno no e diventa tutto più difficile, tolgono sempre più parcheggi. Però a noi cittadini non hanno assolutamente detto nulla. I condomini di via Sicia 6 sono stati gentissimi perché hanno tolto delle barriere che erano state messe tantissimi anni fa per i motori, le hanno segate per darmi la possibilità di accedere all'altro marciapiede e quindi di poter andare in giro dall'altro lato perché sennò avrei avuto pure questo problema. Ma diciamo che i problemi sono sempre stati risolti più che altro dagli abitanti e la zona. Il comune difetta molto per questo, è completamente assente, è come quando mi hanno tolto il parcheggio dell'auto davanti a casa senza dirmi niente.